Ma guardi, siccome sull'emendamento c'è una parola che forse cambiandola darebbe una maggiore chiarezza, li abbiamo, fra virgolette lo dico, confortati nel fatto che la relazione tecnica che accompagna questo provvedimento chiarisce esattamente il senso dell'emendamento nella direzione che loro auspicano. Quindi è vero che si può modificare e dare una maggiore tranquillità, ma la relazione tecnica è molto, molto chiara. Quindi mi sembravano tranquilli e dico con una grande, grande dignità, veramente. Una lezione per tutti. Grazie. Buongiorno.